...un assoluto inferiore di questo specifico ricerco forestale. Alla Bicuccia, a Tonefannolette, si teniva una grande fiera durante la quale si svolgeva il mercato degli animali. Gli artigiani facevano mostra dei loro prodotti e se trovavano gari, se vengono, avevano le tue. Tra la carriera dei burboni, la ricerca dei soldi cattolini. Non si sono vogliate a mantenere. La propria unità d'Italia, tra l'altro, è un'efficiale. Buon caso. La propria unità è un'immunicazione attenta. Buon caso Grazie a tutti. 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 Foto di gruppo, chi la vuol fare? Sono qua, eh? Salita un po' qua sopra. Dai, tutti qua. Dai, Claudia, su, non ti disperare. Gianfra, che sta a pensare la direzione? No, non ti preoccupare. Ma la troviamo la direzione. Un po' di pazienza, un po' di pazienza, un po' di pazienza. Un po' di pazienza. Abbiamo la nascita di Maria, vediamo infatti la lavatrice che sta portando il brodino caldo alla parco diente.